È finalmente arrivato il fuffalibro del trading, un libro interamente copiato dalle risorse free che ci sono online, pieno di testa e spalle, stocastici, RSI, medie mobili, candele giapponesi che non esistono le candele giapponesi nella realtà, però ci sono anche le candele giapponesi. No, sto scherzando. Questo libro raccoglie i miei 30 anni di esperienza sui mercati e parla di quelle tecniche che io ho reputato interessanti, che ho utilizzato e che utilizzo oggi come oggi per fare le mie analisi per il giornale, per Technical Analysis of Stocks and Commodities che è la rivista Principe di Analisi Tecnica e per il Sole 24 Ore. Quindi queste sono le mie migliori strategie di trading. Spiegate per tutti, con un linguaggio semplice, piano, a tratti anche dilettevole. Questo libro costa 27 euro di copertina, ma se lo comprate cliccando nel link qui sotto, vi diamo anche, incluso, del prezzo. Il mio best seller, c'è quello che è stato il mio best seller fino a che non ho iniziato a scrivere questo libro, che è questo cofanetto DVD con due DVD, uno sull'analisi tecnica moderna e uno sui trading system. Costa 19 euro, ma ve lo diamo incluso nel mio libro e le spese di spedizione sono incluse. Quindi, diciamo, voi pagate 27 euro e vi trovate il vostro bel pacco a casa con dentro il mio libro, il DVD e le spese di spedizione le paga Tomasini.